Migliori in campo, Valerio Menichini nella partita, giornate contro Avanas Gay, vinta per 6 a 4, quanti gol realizzati? 4 4 gol personali, un bel poker che si aggiunge al tuo bottino personale, cosa hai da dire sulla tua prestazione? Questa è una squadra Non riprendiamo, ti fanno schifo Questa è una squadra, riprendetele Oh, ballista! Oh, ti fai scemo! E la prestazione tua della squadra, il commento, com'è stata? Tutti bravi, tutti bravi Ti fai schifo Però tu fai schifo Senti, comunque, promesse per il futuro e per il torneo? Niente, proprio Lo prendiamo un po' più seriamente questo torneo, che dici? Abbiamo trovato le persone che giusto Ci togliamo i pantaloncini in diretta Cinesi, vari, cinesi vari, spogliato io asiatico Vabbè, un bacio, un saluto a tutti Arrivederci